e poi sfuuti adesso cominciamo a rendere il nostro respiro regolare concentrati davvero sulla sensazione di pancia gonfia e pancia sconfia ciao grazie di essere qui 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 come oggi oggi faccio un video diverso dal solito perché difficilmente nei video ho fatto in attività insieme a me però ho deciso di cambiare insomma di provare a fare questo video non è la prima meditazione guidata che vi propongo ma è la prima meditazione guidata che farò insieme a voi un momento che prendo per me e che spero voi prendiate per voi stessi ultimamente lo faccio molto più di frequente e trovo che sia utile soprattutto di prima mattina come oggi sono le nove quindi non è proprio primissima mattina ma prima di cominciare a fare tutte le mie attività trovo un momento per centrarmi per mettere ordine nella mia testa soprattutto quando ho tante cose da fare non riesco a iniziare perché ho tante cose da fare oppure semplicemente se ci si sente un po' con la testa da un'altra parte è giusto staccare prendersi anche quei 5-7 minuti che a me personalmente rigenerano ti senti più rilassato un po' più proprio in linea e anche pronto a fare qualsiasi attività della giornata o almeno più pronto prima di iniziare questa meditazione volevo ringraziare Ocean Support per aver sponsorizzato questo video e io ho i completi Ocean Support e li indosso da più di un anno un anno forse e mi sono sempre trovata benissimo in particolare essendo una persona che ama stare comoda lavorando in casa ho una particolare passione per i loro completi sono queste tutte comode ma anche belle da sbocciare all'esterno questo set si chiama Lisa Set Comfort è di questo malva meraviglioso ed è formato da pants e poi anche hoodie quindi ferma con cappuccio entrambi i pezzi sono molto morbidi anche all'interno e super confortevoli questa tuta ce l'ho anche di un altro colore melanzana stupendo anche quello ma è disponibile in diverse colorazioni tutte molto molto belle devo dire io questi set proprio li li adoro mi ci trovo molto molto bene e ho anche un codice sconto il codice è ASMR2 e la promo è che con una spesa minima di 79 euro potete avere un set premium in omaggio come quello che sto indossando io quindi magari ne prendete due al prezzo di uno o comunque riuscire a risparmiare su una vostra spesa quindi spero davvero vi vi faccio piacere avere questo codice e poterlo approfittare bene io ringrazio davvero ancora Ocean's Apart per aver contribuito alla realizzazione di questo video e cominciamo appunto io consiglio una meditazione non detto di mattina ma magari prima di cominciare effettivamente le attività o una serie di attività che non riusciamo bene a ordinare e a organizzarci oppure semplicemente quando sentiamo che c'è un momento della giornata che è proprio in cui proprio non siamo centrati non ci siamo con la testa perché abbiamo mille pensieri attorno e non riusciamo a ordinarli e quindi ciò che funziona con me è appunto svuotare la mente concentrarmi su questa azione semplicissima che è il respirare e il concentrarci su questa azione e concentrarsi sul controllare questa azione ci aiuterà a eliminare tutto ciò che sta intorno io ho scelto per questo momento di appunto mettermi comoda sedermi su un tappetino e circondarmi di piante perché personalmente il contatto ho cercato un contatto con la natura perché è una cosa che mi calma e mi rilassa io non so dove voglio fare questa meditazione ma l'importante che di solito si fanno sedute o sdraiati ma il consiglio più in questa posizione appoggia almeno io appoggio le mani sulle ginocchia e terrò praticamente sempre gli occhi chiusi perché facendola con te sono concentrata e sarà una meditazione proprio anche per me stessa quindi dopo aver fatto tutte queste cose essersi creato in un ambiente rilassante cerca di metterti appunto in un ambiente che non abbia distrazione esterne o nell'ambiente che abbia meno distrazione esterne così faciliterai insomma l'isolamento bene adesso prima rilassa il corpo sciogli un attimo le spalle cerco di stare con la schiena dritta ma non in tensione pensi l'altra semplicemente dritta non coppa e per questo faccio alcuni movimenti con le spalle e poi anche il collo avanti indietro destra sinistra giro da un lato giro dall'altro quando sento che sono in un'opposizione che posso mantenere nel tempo comincio fai intanto tre respiri profondissimi quindi ciò che consiglio è respirare dal naso e o espirare dalla bocca o ancora espirare dal naso il primo andiamo col secondo e il terzo è molto importante che questi respiri siano fatti in maniera corretta quindi trovi più facile concentrarti mettendo le mani sulla tua pancia sul tuo stomaco e a parlo devi sentire che quando inspiri confi bene non la parte alta ma la parte bassa confi bene l'addome e senti appunto riempirlo senti che si riempie d'aria e cominci un po' ad andare in tensione trattini quella tensione un secondo e poi butta tutto fuori butta a me aiuta molto buttare fuori tutto quindi il più possibile fino a sforzarmi di buttare fuori tutto almeno questi primi respiri per buttare via facciamo un altro respiro come ti ho detto io quindi se vi sentire la respirazione possa e poi scuoti adesso cominciamo a rendere il nostro respiro regolare concentrati davvero sulla sensazione di pancia gonfia pancia sconfia pancia in tensione pancia rilassata sull'aria sull'aria che entra al naso ed esce dal naso dalla bocca su queste piccole sensazioni su null'altro se senti che la tua mente sta vagando ritorna sulla sensazione del respiro concentrati solo su quello su nient'altro e ritorna sempre lì prendi questi minuti per stare qui ora durante la respirazione nulla di più continua a respirare e concentrati sull'aria che entra e la pelle che va un po' in tensione e poi sull'aria che dice di nuovo ancora e poi continuo così continuo con dei respiri profondi lenti e precisi un altro ora che stiamo prendendo ritmo stiamo prendendo ritmo con il respiro approfittiamo di questo respiro per inalare per riempire per portarci dentro delle affermazioni positive troppo spesso ci focalizziamo sulle cose negative su gli acciacchi sulle piccole cose che non fanno e ci dimentichiamo di cose molto importanti e ci dimentichiamo di ritornare alle basi e approfitta del respiro di questo respiro che prendi per respirare ciò che andrai a dire se puoi sarebbe è ancora più efficace dire queste affermazioni ad alta voce ok so che magari può sembrarti strano ma tu concentrati e mettici tutta metti tutta la tua attenzione su questa attività e continuo ovviamente a respirare e sì qui tu che ti dirò di far la prima cosa che andremo a dire è una cosa che serve a tutti e cioè io sono abbastanza quindi dillo ad alta voce ed è come se le parole rimanessero lì sospese ispirando le porti dentro di te e le trattieni le mangi le processi ok quindi io sono abbastanza e ripeti anche adesso io sono abbastanza ancora dillo in modo convinto perché tu sei abbastanza quindi io sono sono abbastanza non farti distrarre da questa affermazione non pensare a cosa vuol dire pensa solo a dire questa frase e a inalarla e lasciare che ti motivi lasciare che ti entri dentro e ti dia un senso di pace io sono abbastanza se senti che la tua mente vuole cominciare a vagare ritorna sul respiro ritorna alla base io sono forte io sono forte io sono forte io sono paziente paziente io sono paziente paziente io mi merito di realizzare i miei sogni io mi merito di realizzare i miei sogni io mi merito di realizzare i miei sogni ancora io mi merito di realizzare i miei sogni adesso l'ultima con me e poi facciamo un po' di respirazioni in cui io dirò delle frasi che riguardano me stessa e tu potrai dire ad alta voce delle frasi che sai che ti meriti sai che ti fanno bene in base a ciò di cui hai bisogno te magari prima di una meditazione potrei anche prepararteli bene l'ultima affermazione che io farò per me oggi e questo spero che aiuti anche te io mi accetto io mi accetto io mi accetto io mi accetto adesso ti lascio due minuti semplicemente con la mia respirazione e con la musica di sottofondo per fare qualche affermazione positiva se ne hai bisogno che riguarda proprio la tua persona o se vuoi ripetere qualcuno che ho già detto io e con Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Muovere le spalle, il petto Puoi stare legame sui Senza sforzarti Per me è come svegliarsi una seconda volta Ma questo volta bene di buon umore e con energia E l'ultimo step che faccio E ringraziarmi per essermi ritagliato questo momento Ringraziare me stesso per aver detto ok, farlo, averlo fatto Ed essermi aiutato E' un'altra prossima E' un'altra prossima E' un'altra domanda davvero E ti ringrazio che state qui con me Noi ci vediamo lunedì Galispera Grazie a tutti